Procede speditamente in tutta la Puglia il percorso finalizzato all'internalizzazione del personale del 118 e degli altri servizi in ambito sanitario e quanto dichiara Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della regione Puglia. L'obiettivo del governo regionale è quello di arrivare entro la fine della legislatura alla stabilizzazione di questa platea di lavoratori precari che per quanto riguarda Taranto interessa sia gli addetti al 118 sia quelli del CUP dei servizi informatici e di altri servizi quali la logistica e la distribuzione del farmaco. Passaggio fondamentale in questo processo è stata l'approvazione in giunta avvenuta nelle scorse settimane della modifica alle linee guida sulle internalizzazioni che consente finalmente di avere un quadro normativo chiaro e favorevole a questa soluzione. Stiamo lavorando alacremente prosegue Borracino per individuare le ingenti risorse necessarie per il 118 e per poter procedere con l'internalizzazione di altri servizi attraverso le sanità service e siamo fiduciosi di poter reperire questi fondi grazie ai risparmi di spesa che si otterranno proprio attraverso la gestione in house delle attività ma soprattutto dagli attesi ed auspicati risparmi derivanti dalla spesa farmaceutica e protesica. In questo modo porremo finalmente la parola fine sulla pratica oscena dei cosiddetti pseudo volontari che gestiscono un servizio così importante e delicato per la nostra vita e per la nostra salute come quello del 118 appunto e assicureremo al contempo stabilità e sicurezza economica ad una platea composta da alcune centinaia di lavoratori che convivono da anni con l'incubo della precarietà e che potranno così guardare con maggiore fiducia e serenità al futuro.